Io sono Martino, ho 19 anni e vengo da Castelfranco di sopra, un paesino in provincia di Arizio. Sono campagnola di nome e di fatto. Ho un agriturismo con la mia famiglia, mi aiuto con i clienti perché parlo diverse lingue, quindi hanno bisogno del mio appoggio. Che tu dici? Più che altro, mi abbassa molto il conto corrente. A me le divise piacciono tantissimo, proprio le adoro. Le divise più belle sono receptionist, militare anche e la polizia, polizia mi piace, quella stradale però. Sono perennemente sempre in ritardo. I militari se sono belloni, per me va benissimo ragazzi, presenti. A me piacciono tantissimo il crociere e anche lavorare a bordo, spero di riuscirci, ma sono sicura che ce la farò. E la divisa ovviamente, la divisa non può mancare no? L'area di Rosa Martino Albertoni è pronta. Avanti.